Ciao ragazze, finalmente sono tornata a diventare presentatrice Avon e in questo video vi spiegherò come ci si diventa, quali sono i vantaggi, quali sono i pro, i contro, insomma vi spiegherò un po' tutto. Allora, sono felicissima, sapevate quanto ci tenessi a diventare presentatrice Avon, sapevate che aveva avuto dei problemi con Avon, però no per colpa mia ma per colpa di una persona e nulla, oggi appunto ho le carte in regola per spiegarvi come ci si diventa, quali sono i vantaggi, i pro, i contro, insomma tutto. Nulla, iniziamo subito. Allora, inizio col dire che per diventare presentatrice Avon dovete avere come minimo 16 anni, se siete minorenni va bene il consenso di un genitore o comunque una sorella maggiore, il padre, mamma, comunque va bene. L'importante è appunto che fermi per voi. Arrivate 18 anni, in automatico vi viene praticamente assegnato a voi il diventare presentatrice Avon. Poi, se siete maggiorenni, vi basterà compilare il modulo su www.avon.it, il modulo di iscrizione e poi sarete contattate dalla direttrice di zona entro tre settimane. Allora, per fare prima posso segnalarvi io, se siete di Bari è più facile, vi segnalo e in tre giorni diventate presentatrice Avon, se non prima. In questo caso posso seguirvi io, se siete di Bari, seguirvi fino a un certo punto, nel senso che vi posso aiutare per qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, vi posso aiutare io, ci vediamo e insomma ci si può vedere e vi posso aiutare se siete di Bari. Se non siete di Bari vi posso comunque segnalare io e non aspettate tre settimane, ma aspettate una sola settimana e siete presentatrici Avon. Poi, anche meno di una settimana, comunque, per quanto riguarda i guadagni e i costi, ve lo spiego subito. Allora, per quanto riguarda i guadagni, riceverete, inizialmente, quando andate all'incontro con la vostra direttrice di zona, non vi daranno più il kit del valore di 27 euro, che è questo qui, ma vi daranno una busta contenente questo libricino qui che spiega come diventare presentatrice Avon passo per passo, che ora vi spiegherò in breve, cataloghi, io in questo caso sono entrati in campagna 8, e colorario e tanti altri cataloghi tipo questo qui, che è riservato a voi e dovrete vedere solo voi, e quest'altro, che è il catalogo che avete già visto, delle offerte che è sempre riservato a voi e dovete vedere solo voi e non mostrare alle vostre clienti. Perché su questo catalogo non ci sono assolutamente vantaggi, nel senso che non ci guadagnate nulla. Allora, funziona che tra il primo e il secondo ordine dovete accumulare 430 euro di vendita per non pagare il set, che è questo qui. Contenente campioncini di rossetto, una scatolina come questa, contenente campioncini di rossetto, io me la trovo perché l'ho già presentatrice Avon. Poi contiene delle buste di plastica, sacchetti piccoli, medie e grandi, per poterli dare ai vostri clienti, fornire i vostri clienti i prodotti. Poi contiene il colorario, che è questo qui, che vi servirà per mostrare rossetti, smalti, matite, insomma un po' tutto. Eccolo qua, fondotinta. E contiene svariati campioncini, di cui profumi donna, profumi uomo, creme, corpo, fondotinta, insomma tanti tanti campioncini. Il kit costa 27 euro, come ho già detto, però non dovete assolutamente pagarlo subito. Funziona che l'ordine minimo di Avon deve essere di 65 euro, quindi dovete vendere come minimo 65 euro di prodotti e vi garantisco che è facilissimo, perché considerando che ci sono tanti prodotti in offerta, ad esempio io sono entrata in campagna 8 e in offerta ci sono tante offerte, ma l'offerta più grande è questa qui, degli shampoo, a 1,25 euro. Devo dire che sono validissimi gli shampoo, non mi piacciono gli shampoo e balsamo della linea Naturals, ma lo shampoo normale sì. Quindi 1,25 euro vi basterà vendere 10 shampoo, non so, vi fate un budget per il vostro conto, non so, cercherò di vendere 15 shampoo a tot clienti, cioè non credo che si perderanno per 1,25 euro, non sono davvero nulla. Quindi il catalogo lo lascio a parte, magari faccio un video a parte dove vi mostro le offerte e quindi dicevo l'ordine minimo è di 65 euro. 65 euro di ordine perché? Perché se appunto fate 65 euro di ordine vi viene retribuito il 34% di provvigione su tutti i prodotti cosmesi, compresi profumo e fondotinta, insomma tutto. Il 19% invece è sulla bigiotteria e sui prodotti per la casa. 1,50 euro che vedete qui, fate finta che non l'avete visto perché praticamente l'ordine viene fatto online e quindi le spese di spedizione sono gratis. Se poi fate il corriere, se richiedete il corriere espresso, sì, le spese di spedizione sono a conto vostro e sono di 5 euro. Ma io vi consiglio il corriere normale, in 7 giorni il pacco è a casa vostra e appunto ricevete i prodotti. Se l'ordine minimo è di 25 euro e quindi non supera i 65 euro, vedete qui 64,99 euro, la vostra provvigione è del 5%, quindi non ne vale proprio la pena e pagherete 7 euro di contributo, quindi non ne vale proprio la pena. Se siete amanti dei cosmetici e quindi acquistate già tanto da Avon, vi conviene diventare presentatrice Avon perché avete dei vantaggi e risparmiate su dei prodotti, nel senso che avete il 20% di sconto, il 10%, non ne sono sicura, comunque c'è un piccolo sconticino per voi e che altro? Ritornando appunto al campionario, dicevo che tra la campagna, ad esempio entrate in campagna 8, quindi tra campagna 8 e campagna 9 dovete accumulare 430 euro. 430 euro non vi spaventate perché non è una cifra grande, ve lo garantisco, si possono accumulare facilmente, magari tra amiche di mamma, papà, insomma amici, anche se andate a scuola è meglio, quindi passaparola ce la fate. Nulla. Appunto arrivati a 430 euro non solo vi verranno rimborsati i soldi del borsone, ma appunto il borsone rimane a voi e diventa gratis, quindi è tutto vostro, resterà sempre a voi. Altrimenti se non superate le 430 euro il borsone lo pagate 27 euro, però anche in questo caso non vi spaventate perché non pagate subito il borsone, nel senso che vi verranno scalati dal vostro guadagno. Il guadagno come si vede? Se voi, vi faccio un esempio, ma è un esempio direi abbastanza logico perché quelli sono i guadagni, per dirvi 100 euro di guadagno, voi avete guadagnato 20 euro e su questi 20 euro che avete guadagnato vi vengono scalati direttamente da Avon, quindi alla fine voi non ci andate a perdere nulla, quindi non ci perdete nulla. Che altro devo dirvi? Devo dirvi che ci sono tanti vantaggi come appunto vi fate vedere le offerte riservate a voi e solo per voi, premi che sono questi qui, ci sono tanti premi. E nient'altro ragazzi, gli ordini vengono messi qui sopra, dovete scrivere la quantità del prodotto, il codice prodotto, il tipo di prodotto, la pagina, fragranza, colorazione, eccetera eccetera, e il prezzo del prodotto. Basta ragazzi, io credo di aver detto tutto, se avete bisogno di qualcosa fatemelo sapere, sono sempre a vostra completa disposizione, sono contenta. E nient'altro, vi mando un bacione al prossimo video e un'ultima cosa, mi raccomando, se avete bisogno di me, anche se non siete di Bari, chiedetemelo, se volete diventare presentatrici Avon e volete maggiori informazioni, vi basterà mandare un messaggio privato qui, su Youtube, vi lascio tutti i link giù nell'info box, vi mando un bacione e alla prossima, ciao!